Una donna quando rimane incinta in Italia ha tre possibilità, perdere il bambino, perdere il lavoro, convincere Pier Silvio Berlusconi che è lui il padre. Allora chiamiamo sul palco Mauro Gallegati, Curzio Maltese, Fabio Amato, Daniela Padovan, Agrios Panagopoulos e con loro Mani Ovadia. Non ci posso credere, guardate questa piazza, siamo il futuro, da qui rinasce l'Europa, da noi, noi abbiamo già vinto. Noi rialziamo la testa, attenti la sparo grossa, siamo l'unico voto utile. Siamo voto utile perché rappresentiamo la democrazia, immaginatevelo l'emiciclo parlamentare. Sulla destra ci saranno gli ex post fascisti che si fanno sempre il trucco ma rimangono con l'anima nera, insieme a loro. Ci saranno i populisti a vario titolo, gli euroscettici, ognuno col suo profilo, ma staranno in quell'area. Anche i Cinque Stelle dove si collocheranno avranno un problema dove collocarsi. Allora al centro ci sarà il grande partitone, il partito della voce unica, il partito del pensiero unico. Oramai socialisti e popolari votano praticamente all'85% le stesse cose. Non si fanno opposizione, governano benissimo insieme perché non vogliono governare, vogliono ubbidire. Nel 1996 a Davos, l'allora banchiere della Banca Federale tedesca, Tittmeier, disse Ma cosa vogliono questi politici? Non hanno capito che comanda la finanza, non hanno capito che sono sotto il dominio della finanza e loro lo hanno accettato. Noi no, noi no. Noi vogliamo l'Europa dei cittadini, delle persone, della giustizia sociale e per questo abbiamo ragione. Allora è così emozionante questa sera, perché è questa ragione che diventa umanità concreta come siete voi. Ripenso a quante volte, quante volte siamo scesi in piazza per rivendicare quella giustizia, quella umanità a cui apparteniamo. Noi, i compagni, noi quelli che hanno sempre creduto nell'uguaglianza, che non hanno mollato mai. Sì, e siamo ancora qui questa sera. Per questo non possiamo non vincere. Io credo che questa lista, la lista di Tsipras, ed è meraviglioso sapere che ripartiamo da un leader greco, da un partito greco che ci ha dato un sogno, perché è dalla Grecia che è partita l'Europa e dalla Grecia risorgerà l'Europa. E noi con lei, la nostra lingua è greca, i nostri concetti, la nostra lingua è scientifica. Loro ci hanno insegnato la democrazia e loro oggi ancora ci guidano. E noi siamo felici di essere guidati dal grandissimo Alexis Tsipras. Una sola cosa e finisco. Questa ve la dico a nome del grande, immenso attore Ivano Marescotti. Uno dei nostri più grandi attori, un romagnolo immenso. Pensate quanto è pericoloso. Gli hanno tagliato un filmato, gli hanno tagliato il suo ruolo nella fiction. Come si faceva, loro dicono sempre che Stalin faceva paura e si sono comportati esattamente come si faceva a quei tempi. Allora, guardate, Ivano Marescotti vi manda a dire questo. Elettore, attento, nel segreto dell'urna. Renzi non ti vede, Berlinguer sì. Ciao ragazzi, vinceremo. E adesso preparatevi perché noi invitiamo sul palco, vado, invitiamo a venire sul palco il nostro leader Alexis Tsipras, che è la nostra utopia vincente. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!